Inibito fino al 31 ottobre il presidente del Gubbio Sauro Notari per il post partita dell'andata Playout Savona-Gubbio, anche 3.000 euro di multa alla società, intanto la squadra ripresa ad allenarsi Stasera torna fuori gioco alle ore 21 su TRG Serie B, ultimi preparativi per il Perugia in vista dei playoff con il Pescara in programma domani a Curi alle 18.30 Volley, Sir Perugia ad un passo da Giuliani, Alto Tevere, Sacripanti, saluta Gentili telespettatori di TRG, a voi una cordiale buona serata, benvenuti all'appuntamento informativo con lo sport Che apriamo con la notizia appena arrivata della stangata dal giudice sportivo per il Gubbio Calcio Il presidente Rosso Blu Sauro Notari è stato di fatto inibito sino al 31 ottobre a svolgere incarichi federali e a rappresentare la società nell'ambito federale perché al termine della gara entrava indebitamente sul terreno di gioco e avvicinandosi all'arbitro gli rivolgeva un'espressione gravemente offensiva Analogamente rivolgeva agli addetti federali reiterate frasi offensive con l'invito a segnalare il suo comportamento per essere punito con una multa Si legge nel comunicato del giudice sportivo, inoltre è stata inflitta anche una multa di 3.000 euro alla società Intanto ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio il Gubbio, tutti a disposizione per mister Bonura nella seduta odierna caratterizzata da lavoro atletico guidato dal preparatore Skaia per poi passare alla parte tecnico-tattica Il gruppo sia Tutino che Domini assenti sabato scorso a causa di problemi muscolari con Bonura che non potrà senza dubbio contare sul centrale difensivo Galuppo per la gara di ritorno dopo l'espulsione rimediata in terra Ligure Da domani a giovedì la squadra si allenerà nel pomeriggio, venerdì prevista la consueta rifinitura prepartita Parte da oggi inoltre la prevendita dei biglietti per la gara di ritorno dei play-out Gubbio Savona presso la Tabaccheria 2000 in via Beniamino Ubaldi La società Gubbino ricorda che per l'occasione gli abbonamenti non sono validi dato che i play-out vengono organizzati dalla Lega Nazionale di Lega Pro e non dalla società Gubbio 1910 e stasera non perdete l'appuntamento con il salotto sportivo di fuorigioco in onda alle 21 su TRG Serie B chiude in bellezza la stagione regolare il Perugia che mette a segno l'ultimo blitz a Cittadella nell'ultima gara di campionato Finisce 2-0 per i Grifoni, decidono Fabinho e Parigini nella ripresa e ora per la squadra di Andrea Camplone arrivano gli attesi play-off Oggi i Grifoni hanno di fatti effettuato la rifinitura nella sfida che si disputerà domani sera al Curi contro il Pescara nella formula della gara secca La gara con i Delfini con fischio d'inizio previsto alle 18.30 sarà diretta da Michel Fabri della sezione di Ravenna Ma sentiamo intanto le parole di Mr. Camplone che dopo la sfida di Cittadella parla proprio del Pescara del neotecnico Oddo Oltre ad elogiare i suoi ragazzi in primis il portiere Ivna Provedel Vediamo i servizi Ma guarda per quanto riguarda Oddo sicuramente è un allenatore preparato, giovane Che vive a Pescara quindi conosce benissimo l'ambiente Sicuramente l'avvento suo ha portato la novità, ha rivetalizzato un po' l'ambiente Oggi si è visto, hanno vinto 3-0 contro il Livorno, una signora a scuola Quindi per quanto riguarda invece in questo nuovo modulo Anche oggi abbiamo fatto una buona partita Quindi sicuramente ci potrà tornare utile nei play-off Però adesso ci godiamo questa ennesima vittoria Questi bei 66 punti, ringrazio la squadra che anche oggi ha dato il massimo Veniamo da 13 risultati utili e questo non è poco Però sappiamo benissimo che dobbiamo archiviare tutto questo Perché da adesso inizia un mini-torneo Una partita secca, molto importante Dobbiamo azzerare tutto, rimetterci tutti in discussione E pensare che incontriamo una squadra che dalla cintola in su è molto forte Per quanto riguarda qui è sceso in campo Credo che tutti quanti hanno dato un grande contributo Io direi Ivan, che dopo tanto tempo, tanta panchina e tanta sofferenza Credo che sia entrato in campo con la solita tranquillità E abbia fatto un paio di interventi molto importanti In Serie D arrivano i verdetti play-off e play-out A Colle Valdelsa, l'Olimpia Colligiana batte 2-0 il San Donato Tavernelle Che retrocede così in eccellenza Nella finale play-off il Pogibon si supera 2-1 il Ponsacco Mentre nella Polo Scudetto la Robur del Siena Aguanta la semifinale come miglior seconda dopo lo 0-0 Ottenuto a domicilio della Maceratese Intanto c'è fermento per la nuova società Che andrà ormai a costituire il nuovo Foligno Calcio Denominato Città di Foligno 1928 E capeggiato dal duo Damaschi-Pandalone Mentre resta ancora in stand-by la situazione in casa Gualdo Casa Castalda Dove però è previsto il ridimensionamento di budget e obiettivi Oltre che l'addio al tecnico Federico Giunti In eccellenza Tommaso Guazzolini Il nuovo allenatore del Trestina dopo la retrocessione in serie D I bianconeri ripartono dall'ex capitano che nelle prime due stagioni D'allenatore ha portato il pitulum dalla seconda categoria alla promozione Dimettendosi a metà dello scorso campionato con la squadra al secondo posto Guazzolini prende il posto di Zoran Luzzi Che ha guidato il Trestina nel finale della stagione appena conclusa Suppentrando a Paolo Valori Inoltre il Todi dopo aver vinto per 1-0 la gara di andata Crolla 2-0 sul campo di Toscani del Monticelli Abbandonando così il sogno serie D Colpi di scena nel mercato della pallavole Soprattutto in casa Sir Safety Perugia Dopo il dietro fronte del tecnico Gian Lorenzo Blengini Provenienza da Latina Ufficializzato da Treia nelle ultime ore Dopo che l'accordo con Perugia sembrava ormai ne addirittura d'arrivo Mancano davvero solo alcuni dettagli Per l'annuncio di Alberto Giuliani Come nuovo coach bianconero Giuliani poche ore prima dell'annuncio di Blengini Ha concluso la sua avventura in terra marchigiana Proprio alla guida di Treia Ed ora è pronto a cominciare l'avventura perugina Raccogliendo così l'eredità di Nicola Gerbic Intanto notizie non confortanti In casa Altotevere e pallavolo Che difficilmente si iscriverà alla prossima Superlega Probabile che la società Tifernate riparta dalla serie A2 O addirittura dalla B1 Con conseguente cessione del titolo sportivo Per il massimo campionato O a Corigliano o a Sora Intanto ufficiali divorzio dal direttore generale Vittorio Sacripanti E la società Biancorossa L'Altotevere pallavolo E il dirigente hanno deciso di comune accordo Di non proseguire la collaborazione Iniziata nel gennaio 2014 Causa motivazioni familiari o personali Dello stesso Sacripanti Che si accaserà Sembra a Civita Castellana In A2 Bene con questo è tutto Per quello che riguarda l'informazione sportiva Che tornerà domani sera Alla solita ora A voi una cordialissima buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti.